Per chi vuole comunicare senza pensieri nasce Vodafone Relax, chiamate ed sms totalmente illimitati verso tutti i numeri. Internet incluso sulla rete veloce Vodafone e in più hai un servizio clienti dedicato 24 ore su 24, uno smartphone incluso e sempre nuovo perché lo cambi quando vuoi. In oltre minuti sms e internet per comunicare anche in Europa senza pensieri. Tutto questo per te solo da Mondo Telefonia a Marina di Gioiosa via Montezemolo 23. Grazie a tutti.